Buongiorno ragazzi, dietro c'è la mia ragazza, oggi è martedì 28 agosto, sono le 8.04, non è poco che siamo nel bosco, sarà un quarto d'ora, solo che ci sono già un sacco di macchine per essere di martedì. Ora per fortuna la mia ragazza ne ha trovato una, che adesso mi accingerà a raccogliere, infatti sta arrivando un signore, quello qui, me lo fresco, continuiamo, a dopo. Eccoci di nuovo qui, la mia ragazza ne ha già trovati 5 e io neanche uno, oggi non va, non va, non va, gli altri ne ho filmati perché non erano bellissimi, Purtroppo c'è stato il vento, come potete notare che li ha spaccati, vedete, qua ce n'è uno e l'altro invece, veramente veramente bello. Per fortuna verso giovedì, mercoledì giovedì dovrebbe, guardate che bellezza, dovrebbe piovere, quindi speriamo, magari per il weekend qualcosa salta fuori. Guardate, guardate che bellezza, a dopo. Eccoci di nuovo qua, la mia ragazza oggi, on fire proprio, io trovo solo crave, crave rossa, guardate che bellezza. Guardate che gambeccia. E questo è quanto, continuiamo, a dopo. Eccoci qua, finalmente io ho trovato il primo e nel mentre la mia ragazza ne ha trovato un altro qui di là. Guardate che roba, eh questo è un bel fungo, però purtroppo il suo, un po' più bello forse. Andiamo a prenderlo, camera man, poi attenzione. Camera woman, dis meglio. Camera woman, scusami. Facciamolo a vedere. Guardate che bellezza, fai notare dove siamo, guarda la strada, la gente passa, è appena passata una macchina un attimo fa, ma niente. A dopo ragazzi, continuiamo. Siamo di nuovo qua, qui è dove abbiamo levato i due. La mia ragazza, boh, non so cosa, cosa ho creato. Ho creato un mostro, fortissimo. Mi ha appena trovato un altro. Io non ho tempo di cercare, perché lei mi chiama di qua, di là. Devo filmare, guardate che roba. Abbiamo già levato tipo dieci. A dopo ragazzi. Eccoci di nuovo qua, ne ho trovati, dopo quello là ne ho trovati altri due non bellissimi che tanto non ho filmato. E ora, mi ha trovato uno fresco, guardate qua, da mangiare crudo, guardate che bello. bello, 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 bello. Bello, bello, bello. Continuiamo, a dopo. Eccomi di nuovo qui. Ho passato un minuto da quello di prima. Qua, sabato questo non l'avevo visto ed è rimasto qui. Guardate che roba. bello. Vabbè. Non male. Non male. Continuiamo. Dopo altri, penso, cinque minuti. a me, ragazzi, è lì sopra che gira. Io mi sono scusato un po' qui. Guardate un po' qui. Guardate che bellezza. Bello ci cettello. Perfetto. A dopo. Eccoci di nuovo qua. Ho trovato uno. Non terò il telefono con mia madre che è a lavoro, sta rosicando perché ne stiamo levando. Però è così. Ciao ragazzi, a dopo. Eccoci di nuovo qui. Sì, sabato mi sa che saliamo di nuovo e andiamo di nuovo a farci un bel giretto perché guardate che robe che stanno uscendo. Belli, belli, belli. A dopo. Eccomi di nuovo qua. Qui ce n'è un altro. Questo è stato rovinato un po' dal vento, però guardate che bello. Molto bene. Continuiamo. Eccoci di nuovo qua. La mia ragazza ne ha appena trovati due attaccati assieme. Guardate che bellezza. Andiamo di non rovinarli. Eccoli qui. Guardate che belli. Rimettiamo la pietra. Dove era? Guardate che bellezza. A dopo. Eccoci di nuovo qua. Sono venuto per raccogliere questo che non ho filmato perché non era bellissimo. Ma l'occhio del fungaiolo è stato catturato. L'ho già pulito per farlo vedere alla mia ragazza. L'ho provato a dirle di trovarlo ma non l'ha vista. Ma è normale. Era tutto sotto. Guardate che roba. L'occhio del fungaiolo non tradisce mai. A dopo ragazzi. Eccoci di nuovo qua. Parlo a bassa voce perché è pieno di gente. Non voglio farmi vedere e sentire. La mia ragazza ne ha appena trovato un altro. Molto bello. Continuiamo. A dopo. Eccoci di nuovo qua. I signori per fortuna si sono spostati. L'hanno visto che qua c'eravamo noi. E' per fortuna che si sono spostati. Guardate qui. Guardate un po'. Che bellezza. A dopo ragazzi. Eccoci di nuovo qua. I signori hanno visto che ne stavamo trovando. Stranamente. Sono arrivati verso di noi. Guarda mia ragazza ne ha trovato uno. Guardate dove l'ha trovata. Si sta facendo l'occhio anche lei. Meno male. Un fungo ne ha trovato uno completamente pestato. Un fungo da un netto. Pestato. Io non so come sia possibile questa cosa. Vabbè. Continuiamo. A dopo. Ciao ciao. Eccomi ancora qua. Ce n'è uno in mezzo a questo cespuglio. Vi cercherò. La foto non gliela riesco a fare. Guardate dove è andato a nascere. Però. L'occhio. Funziona sempre bene per fortuna. Ebbè. E meno male. E meno male che funziona bene. Guardate che bellezza. A dopo ragazzi. Eccoci di nuovo qua. Stiamo iniziando a scendere. Però. Qui adesso. Uno. E due. Ebbè. Il cestino. È lì così. E noi. Continuiamo. A dopo. Eccoci. Di nuovo qua. Stiamo scendendo. Sono gli ultimi che filmiamo. Questo qui. Che ne ho trovato adesso. Guardate che bello. Bello fresco. E continuiamo. Ciao ragazzi. A dopo. Eccomi di nuovo qua. Ho passato. Boh. Dieci minuti da quello di prima. E. Ne ho trovati due. Subito. Ho visto questo. Questo bel tombolotto qui. Guardate che bellezza. E poi dopo. Ho visto suo fratello. Guardate che roba. Sì. Sabato. Torniamo su. Per forza. Perché. Guardate. Uff. Guardate che roba. Amo. Peccato che. Abbiamo proprio poco tempo. Adesso stiamo scendendo. Perché se no qua. Si faceva il delirio. Ciao ragazzi. A dopo. Quei due. Erano qua. Sono spostati un po' più in qua. Ce n'è un altro. Non male. Continuiamo. A dopo ragazzi. Ciao 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 ragazzi.